Vito, se le telecamere ci aiutano potremmo anche vedere quanto è numerosa e gremita la sala quest'oggi. Lasciatemi partire con un pizzico di emozione. Si fanno queste presentazioni veramente decine di volte, un po' è il nostro mestiere, però non si riesce mai a essere completamente immuni da un pizzico di eccitazione e anche di emozione. E quindi io volevo veramente chiedervi all'inizio un applauso, spero che si senta anche a casa, perché si è respirata. Fin dalle prime ore del mattino e nei giorni scorsi per la preparazione di questa, che è una conferenza stampa, sì, ma lasciatemelo dire, in realtà è un evento, perché entriamo già con oggi nel vivo della 17esima edizione del Festival dell'Economia. Già questo numero è emblematico, è importante. Come è importante e emblematico il luogo dove ci troviamo, che è un po' un crocevia tra tradizione, innovazione, tra cultura, tra saperi che si tramandano, tra tipologie sociali. Insomma, è il posto giusto, riteniamo, per presentare questo progetto rinnovato che continua nel tempo e che siamo lieti di potervi presentare oggi qui a Milano. Lo faremo con tantissimi ospiti, cercheremo di mantenere un certo ritmo, perché le cose da dire davvero sono tante, ma avremo modo di ripeterle naturalmente. Tradizione e innovazione, se mi consentite, saranno anche due parole chiave che ripeterò frequentemente durante questa presentazione. La tradizione, prima di tutto, lasciatemelo dire, è Trento, che ha visto nascere 17 anni fa questa esperienza, il Festival dell'Economia. Trento, tra l'altro, per tradizione e vocazione è un posto, un crocevia di culture, di confronto, e quindi crediamo che sia la città giusta per proporre anche oggi, nei tempi moderni, queste tematiche che riguardano l'attualità e riguardano l'economia. Innovazione, beh, i relatori che prenderanno la parola dopo di me ne parleranno a lungo e vi faranno vedere anche come. Però io vorrei cominciare con un punto di contatto tra tradizione e innovazione. Mi riferisco al Sole 24 Ore, al gruppo 24 Ore, abbiamo qui il Presidente Edoardo Garrone, che invito subito sul palco, lo accompagniamo con un applauso. Grazie a lei. Perché dico punto di crocevia tra tradizione e innovazione? Perché molti di voi lo ricorderanno, il Festival dell'Economia nasce assieme al Sole 24 Ore, quindi è un ritrovarsi. Grazie, grazie dottor Pedrotti, buongiorno, buonasera a tutti. Io preferisco, come dire, pensare alla tradizione, ma collocarmi dalla parte dell'innovazione, no? Perché, come dire, non c'è sviluppo senza capacità di innovare, e quindi consentite questa battuta apertura. La ragione è lei. Qui siamo al MUDEC, che è il, come sapete, il Museo delle Culture in Milano. Da sette anni, da più di sette anni, il gruppo Sole 24 Ore, attraverso 24 Ore Cultura, gestisce le attività del MUDEC. Quindi, c'è un'esperienza di rapporto pubblico-privato di grande successo. E quindi, partiamo da qua, no? Da questa esperienza, per, come dire, auspicare, ne sono convinto, che la collaborazione del gruppo 24 Ore e la provincia di Trento, il Comune di Trento, l'Università di Trento, sarà, per il Festival dell'Economia, un grande successo. Ne sono sicuro. Dopo di me verrà spiegato a Tusti come sarà strutturato questo evento, di questa edizione. Noi, come Sole 24 Ore, abbiamo fatto un grande lavoro, no, Sole 24 Ore ha 175 anni di storia. Però, negli ultimi anni, come sapete, tutto il mondo dell'editoria ha sofferto, come dire, del calo della carta, della digitalizzazione, della competizione fortissima. Sole 24 Ore ha sofferto anch'esso di questa grande trasformazione digitale, però ha saputo innovare, ha saputo soprattutto continuare a valorizzare quelli che sono i suoi grandi pilastri, che sono la grande competenza in economia e finanza, i rapporti con i territori, il sistema di relazioni, e lo vedrete dopo, che è fondamentale. Quindi mettiamo insieme tradizione e innovazione in questo senso. E poi credibilità, autorevolezza e grande capacità di raccontare le notizie, i fatti, i commenti che riguardano l'economia, l'industria, l'impresa, l'economia del nostro Paese, e non solo con grande professionalità. E sono convinto che questi ingredienti saranno fondamentali per il miglior successo dell'iniziativa. Quindi questo è il mio convincimento, il mio auspicio, il mio augurio. Ringrazio di essere venuti fin qui a Milano il Presidente della Provincia di Trento, il Sindaco di Trento, il Rettore che credo dell'Università di Trento si collega fra poco e farà un suo intervento, e naturalmente anche il Presidente e l'Amministratore delegato di Trentino Marketing, che sono qui con noi e che interverranno. Da ultimo devo ringraziare il Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini e Federico Silvestri, perché sono mesi che lavorano incessantemente, devono anche fare altre cose, non solo questo, per la miglior riuscita di questa edizione del Festival. Lo dico perché per il gruppo Sole 24 Ore, eventi come questo, sono non solo motivo di orgoglio, la buona riuscita, ma naturalmente anche un modo per dimostrare quanto riusciamo ad essere, continuare ad essere autorevoli e quanto riusciamo come gruppo a svolgere una funzione fondamentale, non dico solo per i propri azionisti e per i propri lettori e clienti, ma per il Paese, cosa che il Sole 24 Ore ha fatto dalla sua nascita e continuerà a fare anche nei prossimi anni. Grazie per il lavoro e complimenti per lo sforzo che avete messo in campo. Grazie a tutti. Buon proseguimento. Grazie Presidente. Una notizia che ci può dare, perché ha detto bene il Dottor Tabulini e il Dottor Silvestri, io dico però state attenti perché secondo me viene a controllare sul campo. Io sarò lì dal 2 al 5, quindi sono lì tutti i giorni, con grandissimo piacere. Grazie Presidente. Vedrete che il programma è talmente interessante, con relatori, esperti, di così altro profilo, che sarà interessante per me da imprenditore essere presente, non solo da Presidente del Sole a fare, come dire, le pubbliche relazioni. Le pubbliche relazioni, imprenditore, perché, sa perché? Perché tra pandemia, PNRR e guerra in Ucraina, sanzione e quant'altro, i profili di rischio delle aziende nei prossimi anni cambieranno radicalmente. Quindi cambierà il mondo e io voglio sapere all'imprenditore come fare al meglio il mio mestiere. Quindi al Festival di Trento sono convinto che capirò qualcosa di più rispetto a quanto non ho capito finora. Grazie. Grazie a lei Presidente per la concretezza molto apprezzabile. Avete capito il taglio che si vuole dare a questa manifestazione. Insomma, sappiamo che ci guarderete in tanti, che osserverete in tanti, che parlerete in tanti. Una palestra eccezionale e un agora eccezionale. Ma adesso torniamo un po' con la tradizione. Guardo il sindaco di Trento, Franco Ianneselli, perché nell'introduzione ho parlato di questa, come dire, vocazione della città, del concilio, a portare avanti il confronto. Però una curiosità, avete visto già che si tratta di un sindaco giovane. Le chiedo, ma 17 anni fa, lei cosa faceva quando è nato il Festival dell'Economia? E come se lo ricorda? Giovane con tanti capelli bianchi da quando faccio il sindaco. Sono le responsabilità, in effetti. 17 anni fa, io credo di aver reagito, perché sapete, noi trentini siamo gente di montagna, un po' come hanno reagito tutti i trentini, con una diffidenza, dicendo, insomma, arriva a Trento questo festival, ci avevano detto della scienza triste. Ma, però ci saranno i Nobel che prendono il caffè in Piazza Duomo. Sicuri che sarebbe avvenuto? E poi dietro questa diffidenza c'era anche il, ce lo meritiamo? Cioè possiamo davvero diventare per qualche giorno capitale, capitale della conoscenza? Ecco, io credo che questi 17 anni sono 17 anni di amore della città nei confronti dell'economia, del suo festival e quindi c'è un ringraziamento per tutte le persone che ci hanno lavorato e credo che quello che ha fatto la differenza, ecco, forse sono state due cose. La prima riguarda il luogo, perché Trento è una città, beh, è meravigliosa, ve lo dice il sindaco, ma ha un centro storico che sembra fatto apposta per ospitare queste iniziative, perché noi non abbiamo il palcoscenico dei teatri, noi abbiamo la città che si colora di arancione e diventa tutto un palcoscenico per il festival. La verità è che ci si sta lavorando, no? E poi c'è il popolo del festival, che sono i cittadini che vogliono ascoltare, vogliono farsi domande, vogliono discutere prima e dopo gli incontri e questo è semplicemente meraviglioso. Senta sindaco, tornando invece alla stessa attualità, adesso dal festival che cosa si aspetta? Ha sentito le parole di Garrone? Ma sempre parlando della diffidenza delle persone di montagna, io quando ho sentito il titolo mi sono detto non è un po' troppo geopolitico? Io devo dire purtroppo, purtroppo è di attualità estrema con quello che è avvenuto e allora credo che proprio ragionare sull'ordine, sul disordine sia fondamentale e credo anche, qui provo a dirlo con il nostro understatement, se in questo momento a essere sotto attacco è la democrazia liberale, ecco, credo che anche in queste giornate, che saranno giornate di discussione, di confronto, un piccolo contributo al farsi della democrazia noi lo daremo, perché la democrazia è questa e non è semplicemente schiacciare un pulsante ogni tanto, ma è discutere, confrontarsi e avere dei cittadini esigenti, perché il popolo del festival è fatto da cittadini esigenti. Grazie, grazie a Franco Ianeselli, sindaco di Trento, ci diamo appuntamento nel capoluogo dal 2 al 5 giugno. È stato preannunciato poco fa che abbiamo con noi anche il rettore Flavio De Florian, ecco, lo vediamo in video, sono giornate intense anche per l'università, ci fa molto piacere comunque di averla con noi, la consideriamo qui presente, sappiamo che questa mattina l'Università di Trento ha anche lanciato un'operazione di coinvolgimento con la comunità, quindi in gergo giornalistico si direbbe siete sul pezzo, non più tardi di ieri tra l'altro il Ministro Messa ha anche da Trento lanciato importanti iniziative, insomma c'è qualcosa che sta muovendosi e c'è tanta voglia di costruire assieme, forse questa parola assieme in Trentino siamo ancora capaci di giocarla, con la collaborazione di tanti partner che sono anche qui presenti in sala. Flavio De Florian. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito qui, mi dispiace non essere in presenza ma come è stato spiegato, avevamo un evento questa mattina qui a Trento che non mi ha permesso di essere da voi, però è vero quello che è stato descritto, siamo in un momento particolarmente intenso sia per il TNRR che riguarda molto anche la formazione, la ricerca e l'università sia per questa fase di uscita dalla pandemia che ci porta a riprogrammare le attività in ogni ambito, si citava prima quanto cambia il mondo delle imprese anche e non solo per la pandemia, anche il mondo universitario è in una fase di evoluzione e di profondo cambiamento. Per questo anche a me piace pormi dalla parte dell'innovazione, oltre che della tradizione anche pensando a questo festival, che credo sarà un'occasione appunto di continuare su un filone ormai consolidato, 17 anni di attività a Trento, di edizioni del festival, sono un bagaglio importantissimo, ma sarà anche occasione di rinnovamento, di nuova attenzione a temi che sono diventati particolarmente cruciali. Prima diceva il sindaco che il titolo sembra molto geopolitico, ma poi ci accorgiamo è molto attuale. Credo che sempre di più economia e altre discipline, le scienze sociali in generale, la geopolitica, si intersechino e si intrecchino e quindi diventa difficile distinguere. L'Università di Trento continua a collaborare col festival come negli anni scorsi, soprattutto facendo quello che può fare, che sa fare, che è dare un contributo sul piano scientifico. Non è tutto, sappiamo anche come il festival coinvolga a tutti i livelli e abbia la volontà anche di parlare a fasce diverse di possibili persone che sono presenti al festival o che lo seguono da remoto. Noi ci mettiamo il nostro contributo attraverso la presenza di due nostri colleghi nel comitato scientifico per quel che riguarda il programma scientifico. E come vedrete fra poco è particolarmente interessante e stimolante. Quindi anche da parte mia c'è grande soddisfazione per questa nuova edizione del festival, grande attesa e eccitazione nel vederlo a primi di giugno dal vivo, finalmente in presenza al 100% dopo un paio d'anni di fatica alle spalle. Grazie. Grazie. Senta il rettore, oltre che dare, perché giustamente lei ha sottolineato il ruolo dell'Università all'interno di questo progetto, una domanda. L'Università riceve anche degli stimoli? Perché uno dei temi abbastanza caldi anche dalle nostre parti è quello del trasferimento della scienza e della conoscenza. E sappiamo che ci rivolgiamo a un mondo di imprese che da questo punto di vista ha sempre bisogno. Certamente. Diciamo che è quasi scontato. Tutte le iniziative che hanno gambe per camminare sono iniziative che portano ricadute, impatti positivi a tutti i partecipanti. Se ci fosse un flusso da una parte sola, sarebbe un flusso che si spegne facilmente dopo un po', perché i flussi in un'unica direzione non sono mai la maniera giusta di collaborare. L'Università di Trento negli anni, e sicuramente accadrà anche per i prossimi, ha avuto stimoli importanti, ha avuto importanti occasioni di confronto dal festival e sicuramente ne abbiamo tratto grande giovamento. La presenza di persone di altissimo spessore, che per alcuni giorni dibattono ad alto livello, ma anche trasferendo queste informazioni alla popolazione, è un elemento di grande interesse per l'Università. Sempre di più l'Università è chiamata a fare di più che semplicemente didattica e ricerca dentro le proprie mura. Deve fare trasferimento della conoscenza, trasferimento tecnologico, deve coinvolgere la popolazione, deve accompagnare nella formazione permanente i lavoratori durante l'intero ciclo professionale. E questo lo si fa anche e soprattutto attraverso iniziative culturali di grande spessore come il Festival dell'Economia, che per tutta la popolazione trentina e tutta Italia, se vogliamo, ha una grande ricchezza, ma lo è in particolare anche per la nostra comunità accadente. Grazie all'Università di Trento, grazie a Flavio De Florian. In bocca al lupo, non prendiamo impegni dal 2 al 5 giugno. Allora, era giusto, siamo in un museo, parlarvi anche della cornice dentro la quale i quadri, le opere d'arte si collocano. Quindi gli interventi che sono avvenuti finora sono preparatori di quello che è poi il quadro, perché adesso io guardo Fabio Tamburini, mettetevi comodi perché avremo un bel po' da raccontarvi. I contenuti del Festival dell'Economia 2022 sono numerosi. Vediamo la sigla e poi ci vediamo con Fabio Tamburini. Benvenuto, benvenuto a Fabio Tamburini. Non penso che servano molte presentazioni, direttore, ma però vorrei sottolineare un aspetto che oltre che essere direttore del Sole 24 Ore, dell'Agenzia Radio Cor, di altre cose, tra l'altro lei è direttore dal 12 settembre 2018, oggi è il 12, c'è una bella combinazione di date, è anche professore. Ricordo le sue esperienze a Napoli, a Pavia, e forse è con questa giacchetta che lo vorremmo vestito oggi qui per rappresentarci i contenuti, che vi ho detto, mettetevi comodi, sono numerosi, di un'edizione che si promette, si preannuncia, molto molto interessante. Grazie della presentazione, è troppo buono, una piccola smagliatura, non è Pavia, ma era Parma, e attualmente invece è la Luisa. Detto questo, dice, uomo avvisato, mezzo salvato, quindi io ho un compito ingrato, quello di raccontarvi in un arco di tempo ragionevole quella che è la sintesi di una iniziativa, credo, importante. Come vedrete, abbiamo oltre 200 eventi che si svolgeranno nei quattro giorni del Festival, quindi c'è tanta roba. Cercherò di condurvi per mano nello scoprire questa 17esima edizione del Festival dell'Economia di Trento esercitando la virtù della sintesi. Vedete, quando si cerca un titolo naturalmente non si ha immediata decisione su quale scelta fare e a un certo punto nella riunione del allora Comitato Scientifico che ha messo a fuoco la partecipazione del gruppo Sole 24 Ore alla gara per il Festival di Trento c'erano diverse ipotesi e si è valutata anche quella di dopo la pandemia tra ordine e disordine. C'è stata un po' qualche incertezza iniziale, un po' perché era un titolo, è già stato detto in precedenza, dal sindaco, era molto geopolitico e poi perché in quel momento forse prevaleva più l'indicazione dell'ordine rispetto a quella del disordine e quindi, insomma, qualche incertezza. Dopodiché abbiamo fatto la scelta perché eravamo convinti che la pandemia alla fine era in quel momento l'ultimo segnale di un cambiamento profondo degli equilibri nel mondo, intendendo per tale la società che noi conosciamo meglio, quella occidentale, ma anche il resto del mondo. Cioè si capiva, è nell'aria che si stavano definendo nuovi equilibri. E alla fine abbiamo scelto questo tema che oggi, questo titolo, che oggi potremo anche modificare e aggiungere dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, che peraltro entrambe non sono ancora finite, tra ordine e disordine. Questo è stato, è il segnale che avevamo visto giusto. E vedete, noi travolti dalla quotidianità non sempre ce ne rendiamo conto, ma siamo protagonisti, ormai da un paio d'anni, di avvenimenti che stanno cambiando la storia. Noi li leggeremo e li verranno analizzati sui libri di storia. Noi non sempre al mattino quando ci alziamo, chi è un maschio si fa la barba, non se ne rende conto guardandosi allo specchio, ma noi stiamo vivendo degli anni di profonda trasformazione che stanno cambiando la storia. Ecco, da questo punto di vista è tutta ancora da giocare la partita. Abbiamo detto pandemia, abbiamo detto guerra in Ucraina, ma adesso sta arrivando, si sta delineando un fenomeno, il fenomeno delle cavallette, l'inflazione. E l'inflazione è abbinata, forse speriamo di no, ma alla recessione. Quindi c'è un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere studiati, approfonditi, analizzati. La verità è che l'ordine globale, che sembrava un dato consolidato, è rimesso in discussione. si sa che in questo momento siamo ormai più o meno tutti consapevoli che qualcosa di importante sta cambiando, ma non conosciamo il punto d'arrivo. È un problema, lo ricordò prima il Presidente Garrone, certamente per gli imprenditori, ma è un problema per tutti noi, perché riguarda, alla fine, la nostra vita, gli equilibri della nostra quotidianità. Ecco, io credo che, da questo punto di vista, la consapevolezza che l'ordine globale, così come l'avevamo immaginato a lungo, è rimesso in discussione, si sa la realtà che stiamo vivendo oggi, ma non sappiamo il futuro, è uno degli argomenti che rende particolarmente d'attualità un festival come quello dell'economia di Trento, perché rappresenta un'occasione, ma lo dico senza enfasi, formidabile, per cercare di riflettere sulla realtà che stiamo vivendo, che è economica, ma è anche politica e sociale, per capire dove stiamo andando. Ecco, mi fa molto piacere che questo possa essere fatto in una città che è altrettanto formidabile, come Trento, perché lo ricordava prima il Sindaco, si presta perfettamente per questo tipo di iniziative. e il poterlo fare con una comunità trentina, unita, e che ha proprio, è impegnata, noi l'abbiamo misurato insieme con Federico Silvestri e con gli altri colleghi del gruppo Sole 24 Ore, che hanno lavorato nei miei discorsi a questa iniziativa, l'abbiamo misurata, ecco, questa passione, questa partecipazione, lasciamolo dire anche tu, nella organizzazione di questo evento. E quindi questo è un motivo per me di straordinaria soddisfazione. Avevo detto, quando abbiamo presentato nella conferenza stampa a Trento per la prima volta questa diciassettisima edizione, che sarebbe stata nella continuità, ma anche nella innovazione, una innovazione forte. Perché continuità? Perché il punto di forza del Festival è sempre stato, e continuerà a esserlo, anche nelle edizioni di quest'anno, il Festival dell'Accademia, dell'Università, dei Premi Nobel. Sarebbe stato un errore gravissimo abbandonare questo filone. Ma noi, come gruppo Sole 24 Ore, abbiamo la presunzione di portare qualcosa in più. In particolare, e lo vedrete nel programma che stiamo qui cominciando a raccontare, in particolare, l'attenzione all'economia industriale. Un peccato grave di questo Paese non aver mai dato la sufficiente attenzione all'economia industriale. Se ci fosse stata più economia industriale, più politica industriale, il Paese sarebbe diverso e, secondo me, di gran lunga migliore. Ecco, lasciatemelo dire, il Festival di quest'anno avrà questa caratterizzazione, e nel fare l'agenda ne troverete conferma, di una spasmodica attenzione all'economia industriale e collegata, ed è il terzo filone, il secondo innovativo, all'economia del territorio. Guardate che l'Italia, noi purtroppo abbiamo un'abitudine come Paese di sempre criticarci in modo autoflagellarci, dividerci, schieramenti uno contro l'altro, e dimentichiamo quella che è una ricchezza straordinaria di questo Paese, che è la capacità di coltivare anche la biodiversità e anche i territori che nella loro diversità fanno la forza di questo Paese. A volte fanno anche un po' di confusione in questo Paese, però sono, nel tratto distintivo, uno straordinario punto di forza. Quindi abbiamo detto quattro giorni di Festival dell'economia, duecento eventi organizzati, nove primi Nobel, vi do qualche numero che fotografano l'essenza del Festival, nove primi Nobel, settantacinque relatori del mondo economico, venti economisti di caratura internazionale, trentasei relatori internazionali che si aggiungono, oltre trenta manager e imprenditori, ma anche i tre segretari delle principali organizzazioni sindacali di questo Paese, CIGEDA e Cisluvila. Dieci ministri. L'agenda di questo Festival la devo ringraziare, ricordare qui oggi chi ha dato un contributo fondamentale. Prima di tutto il comitato scientifico che abbiamo organizzato insieme con l'Università, comitato scientifico fatto dal sottoscritto che ne è il Presidente, Gabriella Berloffa che è una professoressa dell'Università di Trento, Adriana Castagnoli, un'altra docente a Torino e Luigi Bonatti, professore a Trento. Come vedete un comitato bilanciato sia da un punto di vista della parità di genere sia da un punto di vista dei contributi metà Trento e metà Gruppo Sole 24 ore. Ma anche ha avuto un ruolo fondamentale l'advisory board. L'advisory board è stato prezioso per suggerire temi, per indicare la direzione verso cui andare nella formazione dei panel. L'advisory board, ricordo che ha visto di cui fanno parte Lucia Annunziata, Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo dell'ISPI, sottolineo l'ISPI, perché sul fronte della geopolitica ha dato un contributo importante e direi straordinario, decisivo anche nell'allestimento del programma, Emma Marcegaglia, Monica Mondardini, che forse, senza far torto a nessuno, nel mondo dei manager al femminile è una persona di straordinarie capacità e che rifugge le luci della ribalta. Credo che sia la prima volta che Monica Mondardini partecipi ad un'iniziativa di questo tipo. E infine Giulio Sapelli e Giulio Tremonti. Voglio qui ricordare anche un altro personaggio che pur non avendo fatto parte dell'advisory board ha dato un contributo importante ed è padre fortunato francescano e ideatore del manifesto di Assisi. il suo contributo è stato davvero significativo. Ecco, come abbiamo proceduto nell'organizzazione degli eventi? Il tema è quello che vi ho detto e che avete visto anche scritto alle mie spalle. Poi abbiamo proceduto per verticalità. Che cosa significa? Che questo titolo tra ordine e disordine l'abbiamo indagato per specificità e quindi una questione che abbiamo approfondito significativamente e troverete spazi adeguati all'interno del programma del festival è quella demografica. Guardate che l'anno scorso è stato raggiunto in questo Paese un punto di non ritorno. Il livello delle nascite è sceso sotto i 400.000 unità all'anno. Tutti gli esperti in demografia concordano che questo è un livello di non ritorno per affermazioni del Presidente dell'Istat Blangiato che sarà presente al festival. Questo significa che in prospettiva nelle proiezioni questo Paese tra 20 anni avrà passerà da 59 milioni di abitanti a 35 milioni di abitanti. Praticamente Villa Arzilla. Allora io se fossi nel governo non dormirei di notte per cercare di invertire questa tendenza che rischia davvero di cambiare in peggio la faccia di questo Paese. Alla questione demografica è una verticalità per noi di straordinaria importanza nel programma del festival. Così come ma questo l'abbiamo già detto la geopolitica è il ruolo dell'Europa. La guerra in Ucraina ha acceso i riflettori su questo aspetto. c'è il polo degli Stati Uniti il polo americano il polo occidentale c'è il polo della Cina. La Russia ha preso un'altra strada e credo che uno degli effetti più negativi della guerra in Ucraina è di avere spinto la Russia nelle braccia della Cina. Questo è un ragionamento elementare che troppo spesso viene dimenticato. È un errore grave per l'Europa che a questo punto si trova in straordinaria difficoltà anche nell'immaginare un ipotetico schieramento delle forze in campo. Poi abbiamo un'attenzione un'altra una terza verticalità è quella dell'economia circolare della sostenibilità dell'ambiente. È un tema che ha solo una negatività negli ultimi tempi è diventato di moda e personalmente quando le cose diventano di moda mi fa venire l'orticaria. Però è un tema che è importante perché poi mette in gioco la qualità della vita di ogni giorno di tutti noi e quindi avremo come festival una grande attenzione a questo aspetto. Ma non ve li sto dicendo per importanza ma c'è poi una novità una novità di cui vado fiero andiamo fieri perché perché è un argomento di cui finora si è parlato poco ed è l'economia dello spazio. Bene noi al festival dell'economia di Trento porremo forse per la prima volta al centro di un evento pubblico approfondendo i vari aspetti questa questione l'economia dello spazio sta nascendo un nuovo mondo che riguarda l'industria in generale la vita di tutti noi ma anche l'industria militare. La guerra non si fa più con i carri armati e basta si fa nello spazio l'economia non si costruisce più sul territorio si costruisce nello spazio ci sono progetti avveniristi che cambieranno la vita di tutti noi e è bene che cominciamo a porsi questa questione e a capire come e in che direzione può cambiare può innescarsi un meccanismo che cambierà la vita di tutti faccio soltanto un esempio forse banale ma è un esempio che non mi invento allora per andare oggi dall'Italia agli Stati Uniti occorrono 8 ore di viaggio aereo sono un lasso di tempo importante ma se come da studi già avviati si va nell'atmosfera quindi con decollo verticale si utilizza la forza dello spazio e si atterra con atterraggio anch'esso verticale dall'Italia agli Stati Uniti ci si andrà in un'ora e mezza guardate che questo cambia il mondo guerra permettendo su questi temi sui temi dell'economia dello spazio credo che valga la pena riflettere cominciare a riflettere a discutere e Trento sarà un'occasione per farlo il PNRR a volte uno è portato a pensare che oggi il PNRR possa essere qualcosa di archeologia politica però non è proprio così perché ci sono in ballo non dimentichiamolo circa 200 miliardi ecco noi come gruppo Sole 24 Ore da metà dicembre abbiamo avviato un osservatorio sullo stato di realizzazione del PNRR e presenteremo i risultati di questo osservatorio a Trento e guardate che i problemi non mancano e quindi è molto importante cominciare a discutere a confrontarci perché io credo che ci sia un dato che poi è anche un dato di fondo del festival l'amore verso la dialettica il beneficio del dubbio ecco io personalmente lo coltivo perché fin da piccolo sono stato sono stato convinto che il dubbio è elevatore di progresso e troppo spesso questo viene dimenticato da diverse parti degli schieramenti che magari si contrappongono su tante cose ma hanno un aspetto in comune non hanno mai dubbi io credo che invece sia importante averli dubbi perché i dubbi significa dialettica e la dialettica è il motore del mondo non lo voglio fare troppo lunga perché avevo detto che esercitavo la virtù della sintesi parità di genere anche qui non ho bisogno di spiegare le ragioni anche qui c'è lo stesso difetto di prima quello dell'orticaria perché sta diventando di moda ma è importante che noi lo teniamo presente è un lungo percorso devo dirvi che anche come organizzatore di questo festival abbiamo incontrato delle difficoltà ma è inutile essere ipocriti la presenza femminile è importante ma deve fare i conti con una realtà che certo non aiuta gli organizzatori di un'agenda di un festival accantoniamo le ipocrisie e prendiamo atto della realtà ma certo la tendenza ad avere una parità di genere effettiva non è moda ma deve diventare modello di comportamento modello di vita per tutti noi patto di stabilità e inflazione beh il patto di stabilità è qualcosa che ormai appartiene a un altro mondo io ricordo che come giornalisti abbiamo passato diversi anni a porci il problema ma non solo come giornalisti il 3% di rapporto tra prodotto interno lordo e pilla poteva essere superabile oppure se veniva superato cascava il mondo beh ormai siamo dei livelli che la verità è che ormai il debito pubblico è diventato qualcosa di enorme il mondo non soltanto l'Italia purtroppo noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte mica male ma gli Stati Uniti la Cina persino la Germania il Giappone tutto il mondo è seduto su una montagna di debito pubblico a me da piccolo mi hanno insegnato che i debiti è meglio non farli e se uno li fa poi devono essere restituiti guardate che qua lo scenario e di questo discuteremo a Trento il debito pubblico degli stati oggi ha raggiunto dimensioni tali che verranno aggravate dalla guerra in Ucraina che io non so ma non mi pare che sia un problema d'attualità che sarà possibile restituirlo questo debito pubblico il problema si pone non è banale inflazione e recessione sono le cavallette che arrivano dopo la pandemia e la guerra in Ucraina quindi attenzione perché inflazione e recessione generano la povertà approfondiscono il divari poche grandi ricchezze e tanta povertà ma la povertà significa se la pratica a mangiare magari non solo in Italia magari relativamente ma poi c'è il resto del mondo la povertà oggi è un rischio molto serio dopodiché realestete e territorio completano il quadro delle verticalità mi fa piacere aggiungere un evento di cui sono molto orgoglioso perché c'è un personaggio che a Trento ha rappresentato un qualcosa al di là degli schieramenti ed è stato Beniamino Andreatta lo ricorderemo a Trento e parteciperanno a questo ricordo Romano Prodi che sarà presente e ci ha tenuto ad avvisare tutto il festival quindi come il presidente Garrone sarà lì dal 2 al 5 giugno ma anche Giovanni Bazzoli e anche il professor Alberto Quadriocurzio che nel mondo accademico è un'autorità e che si è sempre occupato di quell'economia industriale ritenuta una categoria accademica di serie B e noi con forza ribadiremo in questo festival che l'economia industriale non è una categoria accademica di serie B e se qualcuno pensa a questo fa un errore grave il festival sarà anche l'occasione per presentare alcune iniziative le cito rapidamente perché se no la dichiarazione di intenti della virtù della sintesi va a farsi benedire il festival ha come media partner Financial Times lo spagnolo e l'economista Sky Rai 1 Rai 3 con Financial Times abbiamo organizzato un hackathon Made in Italy Challenge in cui presenteremo dei curriculum particolarmente significativi di laureati e frequentatori di scuole di direzione aziendale che hanno finito il loro percorso di studio e che sono oltre i 36 anni e si affacciano e sono quindi in pieno sul mercato del lavoro ma avremo anche visioni di futuro l'abbiamo chiamato così che è un concorso invece per chi l'università e le scuole di direzione aziendale le sta facendo su due filoni parità di genere e transizione energetica noi abbiamo chiesto e stiamo raccogliendo degli elaborati i migliori verranno premiati a Trento l'osservatorio PNRR l'ho detto prima l'economia dei territori abbiamo tanti eventi che coinvolgeranno chi dell'economia è protagonista a Trento e nel Trentino perché se lo meritano perché loro rappresentano la spina dorsale di questo paese nel loro territorio ed è importante dargli voce perché sono loro che sono in prima fila quando si parla dell'economia perché loro l'economia la fanno tutti i giorni al contrario di noi giornalisti che ne parliamo infine gli incontri con gli autori che presenteranno dei libri significativi nella tradizione del Festival dell'economia di Trento alcuni nomi parteciperanno tra gli economisti bene ho detto nove premi Nobel avremo Art premio Nobel per l'economia 2016 avremo Daniel McFadden anche lui premio Nobel nel 2020 Edmund Phelps premio Nobel e Columbia University Muhammad Yunus premio Nobel per la pace nel creare sviluppo economico e sociale dal basso vedete noi avremo alcuni premi Nobel sulla pace personalmente sono straordinariamente contento di aver fatto questa scelta perché la pace deve diventare deve continuare deve diventare continuare a essere il nostro faro perché guerra significa distruzione e morte e non c'è progresso con la guerra quindi sono molto contento che oltre a Yunus altri primi Nobel per la pace parteciperanno al Festival dell'economia tra gli economisti di rilevanza internazionale cito Marta Dassù presidente dell'Aspen Institute Jean Paul Fitussi della Columbia University Donato Masciandaro della Bocconi Thomas Filippon della New York University Dante Roscini della Harvard Business School Enrico Sadun che è stato direttore per l'Italia del Fondo Mondiale poi Davide Tabarelli credo che sia oggi in Italia il massimo esperto di energia dell'Università Bocconi Varufakis perché il festival è un festival aperto a tutti i contributi e anche Paola Villa dell'Università degli Studi di Trento tra i relatori del mondo accademico ricordo anche Massimo Bergami che è il presidente della Business School di Bologna il politologo Roberto Dalimonte Rita Declesia della Sapienza Giorgio Di Giorgio della LUIS Giovanni Dosi della Scuola Superiore di Sant'Anna Marcello Messori anche lui della LUIS Silvio Micali del MIT di Boston Kia Nobrel di Oxford University che potremo scoprire che ha premio Nobel nei prossimi anni Paola Severino Giovanni Tria David Jermak vedrete altri nomi gli altri nomi li vedete sul programma che è stato distribuito all'inizio di questo pomeriggio tra le istituzioni ho ricordato i dieci ministri ci saranno anche Paolo Gentiloni il capo della vigilanza della Banca Centrale Europea Andrea Enria che non è solito frequentare avvenimenti del genere avremo avremo Nunzio Galantino Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica Città del Vaticano l'artefice della rivoluzione nel campo della finanza vaticana ci racconterà l'ordine e il disordine dentro le mura del Vaticano è la prima volta che lo farà in pubblico Franco Gallo grande vecchio del fisco in Italia ma anche Mauro Gambetti vicario generale di sua santità della città del Vaticano avremo Roberto Garofoli che è l'uomo chiave del PNRR nel governo Draghi è il segretario della presidenza del consiglio quello che sul PNRR e sulla sua applicazione oggi dice magari non la parola definitiva quella dice Draghi però diciamo che dalle sue mani passano i dossier più significativi avremo anche Antonio Patuelli e Giovanni Sabadini rispettivamente presidente e direttore generale dell'ABI ma anche Paolo Savona presidente della Consob completano le presenze istituzionali Ernesto Maria Ruffini direttore dell'Agenzia delle Entrate Alessandra Perrazzelli che è la vice direttore generale della Banca d'Italia Jean-Claude Trichet che è stato presidente della Banca Centrale Europea Roberto Viola che oggi è l'italiano più importante nell'organigramma tecnico della Commissione Europea e il direttore generale della parte Connect quella che si occupa di telecomunicazione e nuove tecnologie nel mondo tra gli imprenditori c'è una presenza importante perché gli imprenditori rappresentano la spina dorsale di questo paese avremo Alessandro Benetton Diana Bracco Francesco Gaetano Caltagirone Emma Marcegaglia Monica Poggio amministratore delegato della Bayer Italia ha fatto un grande investimento nell'industria 4.0 che ha cambiato la faccia della Bayer in Italia Marco Tronchetti Provera vi risparmio gli altri perché se no la tiro troppo lunga andiamo a una sintesi brutale la preapertura del festival verrà fatta da Gianfranco Ravasi il cardinale e ricordo anche la chiusura del generale Allen che è stato il numero uno dell'esercito americano a lungo e che viene apposta parte il 4 giugno dagli Stati Uniti dove è impegnato in uno dei team tank più prestigiosi e arriva il 5 proprio per partecipare al festival di Trento e chiuderà il festival insieme con Carlo Bonomi presidente di Confindustria ecco potrei anche continuare vi risparmio chiudo chiudo sottolineando che ci saranno anche dei giornalisti ben conosciuti hanno almeno metà di loro una caratteristica sono stati i miei direttori in passato ricordo Ferruccio De Bortoli Giulio Anselmi Maria Latella Paolo Mieli e la conduttrice del Tg1 specializzata in economia digitale che è un altro filone importante del festival Barbara Carfagna io non faccio altre domande direttore però dico si merita un applauso perché è vero che era una promessa quella della sintesi però era impossibile e poi all'inizio ho detto che questo in effetti era già un primo evento del festival dell'economia avete capito quanta ricchezza quanto impegno quindi un applauso ancora Fabio Tamburini poi saremo a disposizione delle domande quando avremo finito la nostra carrellata direttore facciamo un cambio con Federico Silvestri perché non è finita qui perché questo era diciamo come dire l'ossatura del festival lato scientifico giornalistico industriale però Federico Silvestri lo accompagniamo anche lui con un applauso si è lavorato tanto anche perché una delle come dire qualità del festival dell'economia è quello di sperimentare delle forme di contaminazione con le persone prima Fabio Tamburini diceva l'uomo che si fa la barba la mattina al massimo si chiede come mai sono rincarate nella mente in effetti c'è sempre una causa e un effetto e portare tematiche complesse come quelle economiche alla portata di tutti come diceva il sindaco il Nobel che prende il caffè è una delle qualità di questo festival allora qui ci hanno lavorato tanto la squadra si è fatta in tre forse di più ricordo la provincia il gruppo 24 ore Trentino Marketing e molti altri qui presenti c'è stato un grande coinvolgimento a livello di sponsor a livello di media partner e poi una sorpresa un altro festival in pratica Federico Silvestri grazie a tutti e buonasera io a differenza del direttore Tamburini vedo poco quindi metto gli occhiali perché tante cose abbiamo da raccontare la prima condivido il piacere di essere qui oggi a confermare dei propositi che erano contenuti nel progetto che noi abbiamo presentato quando ci è venuto in mente di partecipare a questa bella iniziativa e forse uno dei propositi più come dire elemento e discontinuità era questa voglia di coinvolgere un target allargato questa ambizione di avvicinare anche quei target che magari sono meno immediatamente assimilabili o prossimi a temi così così alti così importanti parlo dei giovani parlo delle famiglie parlo più in generale di tutti coloro che magari hanno sete di informazione però hanno anche qualche piccola diffidenza perché magari sono argomenti di non facile comprensione quindi noi volevamo creare un ponte un trade union tra un calendario così strutturato così importante sapevamo che Fabio Tamburini avrebbe fatto da par suo quello che oggi ci ha raccontato e quindi abbiamo voluto dar vita a un set di iniziative appunto che avvicinassero anche altri pubblici alla città di Trento e ai contenuti del festival e quindi da questo sono nate una serie di iniziative anzitutto mi fa piacere dire che nel grande lavoro che abbiamo fatto insieme a Trentino Marketing dove si è creata una coesione quasi un lavoro a quattro mani un bel gioco di squadra abbiamo avuto il piacere di coinvolgere anche le realtà del territorio trentino che fin dalla prima ora hanno avuto voglia di essere vicino a noi di collaborare quindi in questo nuovo concept del festival c'è un ricco calendario di appuntamenti dedicato appunto alle economie dei territori appuntamenti che coinvolgono quindi le fondazioni le istituzioni gli enti di ricerca le organizzazioni del terzo settore e più in generale le associazioni di categoria l'obiettivo è quello di approfondire le dinamiche di sviluppo territoriale la ricerca l'innovazione i modelli di trasformazione le relazioni socio-economiche temi che spazieranno su tantissimi fronti le realtà che saranno vicine a noi per l'economia dei territori le cito Altro Consumo la Confindustria di Trento la Cooperazione Trentina il Consiglio Provinciale Giovani della Provincia di Trento l'Eusalp la Fondazione Caritro la Fondazione De Marchi Fondazione Kessler Fondazione Edmund Mack i Giovani Imprenditori del Terziario della Provincia di Trento l'Hub Innovazione Trentino l'Ilt Trento l'Oxe e Trentino Sviluppo quindi come vedete una partecipazione straordinariamente fitta detto questo non volevamo abbandonare una tradizione del Festival quindi abbiamo concepito anche un calendario lo citava Fabio Tamburini molto fitto di incontri con gli autori quindi sono giornate in cui ci saranno tantissime presentazioni con appunto gli stessi autori e che batteranno sui temi più diversi e naturalmente di stringente attualità quindi un programma che darà spazio a studi e ricerche con appuntamenti con tanti e diversi argomenti quindi da naturalmente l'economia che avrà un ruolo centrale ma anche il mondo femminile e il ruolo che oggi la donna ha nel mondo dell'economia e del lavoro si parlerà di arte di musica di storia di sfide dell'innovazione per il sistema Italia ma anche un bellissimo calendario di cui siamo molto orgogliosi per i più piccoli con presentazioni libri che offriranno ai ragazzi un primo approccio ai temi dell'economia e della sostenibilità e poi naturalmente il grande nuovo contenitore del fuori festival quindi forse il più grande elemento di discontinuità di questa diciassettesima edizione sarà una vera e propria kermess un pari insesso diciamo così parallelo abbiamo voluto mettere al centro anzitutto i giovani perché crediamo che ci sia la voglia di partecipare e di fare un percorso insieme verso il futuro chiaramente per ottenere questo obiettivo questo ce lo siamo posti fin dalla prima ora bisogna considerare di parlare anche linguaggi diversi di avvicinarsi al modo di pensare di esprimersi dei ragazzi e quindi ecco perché abbiamo coinvolto una serie di personaggi affini al mondo dei più giovani andando anche ad avere il piacere di ospitare dei dei grandi storyteller per consentire un vero e proprio confronto su su temi parimenti strutturati ed importanti faremo attività educational e culturali e come avevamo detto naturalmente ci confronteremo anche con dei mondi che oggi sono assolutamente protagonisti ma è quello dei creator e degli influencer naturalmente i temi che andremo a trattare in qualche misura saranno sintonici al tema principale del festival quindi se il tema principale è tra ordine e disordine dopo la pandemia e per l'appunto oggi anche dopo la guerra noi andremo a parlare di come creare il futuro e di come a volte è tanto utile costruire un futuro fatto di ordine ma in una chiave di lettura diversa il disordine può essere un valore aggiunto perché il disordine vuol dire anche creatività nel senso nobile evidentemente del termine ci saranno naturalmente tantissimi ospiti anche in questo calendario che sarà composto di più di 50 eventi cito anch'io qualche nome quindi dalla cantante U che è una delle pochissime artiste italiane a essere al tempo stesso cantautrice producer pluristrumentista ci sarà il duo musicale Comacose ci sarà una presenza straordinaria dell'autore interprete due volte vincitore del festival di Sanremo e oggi attesissimo favorito all'Eurovision Song Contest sto parlando di Mahmood che verrà a Trento non solo a cantare ma a parlare con i ragazzi non ai ragazzi con i ragazzi ci sarà una straordinaria presenza di Lev Manovic uno dei più grandi visionari mi permetto di dire e storyteller della nostra epoca che in un dialogo con Donjo che come sappiamo è un grande musicista produttore fondatore del club Dogo faranno una una performance straordinaria ci sarà il fotografo Gabriele Stabile l'artista e performer Andrea Bianconi il curator di Soda Gallery Valentino Catricalà ci sarà Luca Casadei che è il founder di The Fouse oggi un fenomeno assoluto all'attenzione dei ragazzi è la prima concept house dedicata alla crescita del talento digitale e insieme a Luca Casadei che racconterà questo fenomeno ci saranno i creator che hanno alimentato il successo di The Fouse delle vere e proprie star parlo di talent ognuno dei quali ha 3, 4, 5 milioni di follower quindi Simone Berlini Tommaso Donadoni Marco Bonetti Florin Vitan Davide Moccia Yusuf Panseri Alessia Lanza Emilie Pallini parleremo poi di creazione nuove opportunità con giovani imprenditrici come Florenzia Di Stefano Abicein con Melissa Forti parleremo di innovatori digitali come Daniela Roba che è business strategy advisor co-founder e CEO di Twin One che è la prima azienda applicata la tecnologia digitale al mondo del fashion ci sarà Leopoldo Vendramin ci sarà Alberto Finardi Giuseppe Lo Schiavo quindi nomi e volti molto noti molto attrattivi per il target a cui volevamo dedicare diciamo il focus di questa manifestazione ci sarà Alessandro Innocenti che è un grandissimo conoscitore di trend e founder di Madhouse Group ci sarà Elisa Serafini che è la co-founder di Politicolli che è la start-up per il crowdfunding politico digitale trasparente ma avremo anche nel fuori festival degli studiosi e accademici come Giovanni Lostorto che è il direttore generale della LUIS Luca Beverina che è professore ordinario dell'Università di Milano Bicocca e Carlo Barbante che è direttore dell'Istituto di Scienze Polari abbiamo individuato per il fuori festival tre principali filoni il primo è quello della cultura del creare quindi faremo incontri workshop laboratori destinati agli studenti di tutte le età e ai giovani talenti del futuro ecco una caratteristica che noi abbiamo voluto anche puntare molto sull'attività di engagement quindi non soltanto coinvolgere i ragazzi e tutti gli interessati ad ascoltare dove stiamo andando a costruire insieme questo futuro ma anche appunto cercare di lavorarci insieme come dicevo fin dai dai bambini più piccoli con attività di engagement quindi tra i vari appuntamenti avremo laboratori con i creator di Young Finance che è il progetto del Sole 24 Ore che coinvolge talent molto noti su YouTube avremo i laboratori a cura del Muse per gli studenti e scuole secondarie superiori parleremo di economia verde e sostenibilità con le attività curate da 24 Ore Cultura Education sempre evidentemente al Muse faremo delle bellissime attività con un partner che è Coccole Sonore e Mela Music ci sarà una bellissima iniziativa dedicata alla Clay Economy dove noi daremo daremo voce a una miniserie animata quindi dei cartoon che faranno education formazione appunto sull'educazione finanziaria sono delle produzioni che sono state prodotte da Alberto Forchielli e quindi ben sappiamo essere un grande protagonista del mondo dell'economia e della finanza e quindi questo diciamo è il primo filone poi avremo un secondo filone che si chiama I Visionari e quindi appunto come dice la parola stessa saranno talk e momenti performativi con personaggi del mondo dello spettacolo influencer e anche però con il coinvolgimento di realtà imprenditoriali start-upper o ex-start-upper che raccontano ai ragazzi la loro esperienza e il terzo filone è quello delle parole d'ordine quindi quali sono oggi le parole d'ordine note ai ragazzi magari però non note a tutti quindi le condividiamo con i ragazzi ma credo che saranno interessanti anche per una vasta platea per entrare dentro al mondo dei ragazzi tra queste segnare una bellissima iniziativa con Elisabetta Illi che è ambasciatrice dell'ONU dove parleremo di trasparenza come nuovo ordine in un incontro laboratorio con un bellissimo fotoreportage che racconterà i paesi in via di sviluppo chiaramente nelle attività del fuori festival saranno coinvolte anche alcune come dire attività che nascono dal gruppo 24 ore in particolare Radio 24 oltre alla sua presenza che poi adesso racconteremo produrrà degli spettacoli live quindi fuori onda ma per il pubblico che sarà a Trento quindi ci saranno il duo Giuseppe Cruciani e David Parenzo in un format nuovo che si chiama Zanzara meets fans quindi la Zanzara incontra i suoi fan a Trento ci sarà Giampaolo Musumeci che sappiamo bene ha una trasmissione su Radio 24 si chiama Nessun luogo è lontano oggi protagonista assoluta del Parinsessi Radio 24 è il primo riferimento a cui il pubblico fa riferimento per comprendere a livello geopolitico quello che sta accadendo e Giampaolo farà uno spettacolo a Trento che nasce dalla sua trasmissione ci saranno Alessandro Milan e Leonardo Manera altre due star di Radio 24 che con uno spettacolo itinerante a teatro in tutta Italia porteranno il loro contenuto anche a Trento ci sarà Matteo Caccia un grande storyteller che con le sue storie di rinascita verrà a Trento a raccontarci le sue visioni ci sarà una bellissima iniziativa a cura di How to spend it che è il magazine del gruppo 24 ore in collaborazione con il Financial Times quindi la nostra Nicoletta Polla Mattiot parlerà di economia della bellezza e poi ancora ci sarà a Trento il domenicale quindi l'alfiere dell'informazione culturale del gruppo 24 ore con il nostro Marco Carminati che racconterà al pubblico come nasce un numero della domenica ci saranno due realtà del territorio anche loro protagoniste del Fuori Festival che sono lo studio d'arte Andromeda quindi sarà tutta un'ampia sezione dedicata al mondo del fumetto e come dire anche a temi un po' più di alleggerimento e naturalmente la fondazione De Marchi ci saranno poi degli appuntamenti speciali ogni giorno un appuntamento quindi il 2 giugno avremo il piacere di ospitare un concerto con un violino Stradivari suonato da violinista Clarissa Bevilacqua che sarà accompagnata dal pianista Yu Nitara questo grazie alla collaborazione con la fondazione del museo del violino di Cremona mentre invece il 3 giugno avremo uno straordinario concerto con il maestro Accardo il canto della fabbrica e con la partecipazione della pianista Gilbe e sabato 4 giugno avremo una serata straordinaria perché poi dopo tutti questi contenuti meravigliosi spazio anche all'intrattenimento abbiamo chiesto e ottenuto di ospitare a Trento gli amici di Zeli che quindi è una serata dedicata saranno con noi a Trento economia da ridere e quindi ci permettiamo di scherzare anche oltre che approfondire questi importanti temi una bellissima iniziativa a Corredo del Fuorifest anche questo l'avevamo annunciato e abbiamo il piacere di confermare che ci sarà ovvero l'obiettivo di far vivere il festival tutto l'anno perché il festival è un patrimonio del territorio trentino e appartiene alla città di Trento ma è anche giusto condividere ed esportare questi bellissimi contenuti anche con altre realtà e anche a livello internazionale quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo costruito un progetto che coinvolge le ambasciate italiane all'estero e quindi in momenti dell'anno diversi dalla prima settimana di giugno saremo ospitati da alcune di queste ambasciate per fare dei cicli delle giornate in cui continueremo ad approfondire gli argomenti legati all'economia e che sono protagonisti del festival la prima ambasciata che ha aderito al piacere di annunciarlo è l'ambasciata italiana in Svizzera e dove andremo in autunno appunto a importare il festival dell'economia di Trento ovviamente il gruppo 24 ore sarà presente in forze durante le giornate del festival quindi il giornale il quotidiano evidentemente con gran parte della sua redazione che vivrà a Trento in quei giorni naturalmente l'agenzia Radio Cor che ricordiamolo è la più importante agenzia economico finanziaria in Europa e quindi darà copertura in tempo reale a tutto quello che accadrà al festival Radio 24 che trasmetterà in diretta durante tutte le giornate della manifestazione e tutte le piattaforme digitali a partire dal sito del sole 24 ore e i profili social saranno un'unica piattaforma che racconterà a tutti anche a chi magari non riesce a venire a Trento tutto quello che accade avremo una copertura mediatica oltre alla presenza dei mezzi del gruppo 24 ore credo di assoluto rilievo sappiamo bene che sarà con noi come partner e grazie anche diciamo a un accordo ormai consolidato con il nostro gruppo Sky TG24 quindi ringrazio direttore Giuseppe De Bellis Sky TG24 trasmetterà insieme a Radio 24 nella stessa piazza di Trento tutti i giorni in diretta e quindi una piazza che a quel punto diventerà davvero un media center a cielo aperto avremo inoltre il piacere lo aveva anticipato il direttore di avere con noi come media partner due straordinarie testate publisher internazionali sto parlando del Financial Times e di El Economista e questo credo che sia un grande riconoscimento per questa manifestazione e per quello che stiamo facendo insieme di cui oggi vi stiamo parlando e vi stiamo raccontando perché al di là di quello che si può dire è la reale conferma che questo è un festival di livello internazionale nei fatti e quindi queste due testate contribuiranno evidentemente ad esportare a una platea più ampia e appunto internazionale i contenuti del festival competa poi il quadro dei media partner la presenza ai RAI Radio 1 e RAI Radio 3 concludo con una sottolineatura alla risposta da parte del mondo del business all'iniziativa a cui abbiamo dato vita una risposta straordinaria noi avremo quasi 30 partner del festival dell'economia di Trento quindi 30 realtà che hanno voluto sostenere l'iniziativa che hanno creduto in questo progetto ma soprattutto che hanno voluto partecipare attivamente ai lavori del festival dell'economia di Trento quindi avremo come top partner Intesa San Paolo Capgemini Confcooperative ed Enel poi avremo come main partner Ferrovie dello Stato italiane Itas Mutua e Simest avremo come official partner Abbi Autostrada del Brennero Conai Rina Gruppo Rina Telepass Terna Team e poi avremo come supporter la cooperativa Auxilium Doppelmayr la fondazione Mezzogiorno Grant Horton Idro Dolomiti Energia Lisplan Pagopa Tinexta e Tosetti Value inoltre avremo la collaborazione dell'Agenzia delle Accise Dogane Monopoli e della rappresentanza in Italia della Commissione Europea dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia della fondazione Pirelli avremo la fondazione Caritro che ha scelto di sostenere il Fuori Festival e dobbiamo ringraziare come ho detto prima la fondazione Museo del Violino Stradivari e il conservatorio Bonporti di Trento che accompagnerà con degli bellissimi e straordinari appuntamenti musicali alcuni degli eventi che avremo a Trento quindi scusate anch'io se non ho potuto avvalermi del dono della sintesi ma questo è quello che ci aspetta dal 2 al 5 giugno a Trento noi crediamo un set di iniziative quelle che ha raccontato Fabio Tamburini quelle che vi ho raccontato ora che per davvero accenderanno la città e potranno interessare chi vorrà venire con noi a partecipare a questa bella guernesse grazie Federico Silvestri adesso il problema che si pone è quello di riuscire a seguire tutto è ben vero che le piattaforme digitali ci aiuteranno perché poi questi sono contenuti preziosi che resisteranno nel tempo potranno anche fare scuola beh insomma io sto guardando l'orologio le cose da dire l'avevo preannunciato sono tante forse siete un po' stanchi un pochino beh noi siamo abituati in montagna a mettere un passo dopo l'altro e così si va in salita si raggiunge la cima poi succede che ogni tanto si tira il fiato e si guarda il panorama allora vi invitiamo a farlo assieme a noi con queste belle immagini a farlo assieme a noi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.